Ma lo vedi? Impazzito, non capisco. Cosa? Dalla, dalla me. Sì. Passamela. Impazzito. Sarà meglio lasciarlo stare a qualcosa che non va. Andiamo, andiamo. Andiamo. È così carino. No, non c'è niente di cui aver paura, Olaf. Io non ho paura, Elsa. No, tesoro, certo che no. Oh, cazzo. Niente panico. Che facciamo? Se è nero, ti difendi. Se è Bruno, ti arrendi. Ma è nero o Bruno? A me sembra Bruno. Siamo sugli appalaci. È nero. Ci difenderemo. Come lo sai? Non sei esperto di orsi. La cosa importante è che non... Corri! Dove andiamo? Dove andiamo? Cos'era meglio non correre. In cima, in cima. Ferma, ferma. Stassi. Corri! Dove andiamo? Corri, Elsa! Dove andiamo? Corri! Oddio sta arrivando. Oddio! Corri! Ci sto seguendo! Ci sto seguendo! No! Ci sto seguendo! No! 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 Non mi la mano! Forza! 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 Oh! Oh! This is drugs. This is your brain on drugs. It isn't glamorous, or cool, or kid stuff. The thrill can kill. Smokin' crack is like putting a gun in your mouth. And pulling the trigger. Millions of dollars worth of cocaine dropped from the sky early today onto a driveway in Knoxville, Tennessee. Kennelly Jones reports tonight it was found on the body of a man who fell to his death when his parachute failed to open. The body of the heavily armed parachutist was found early this morning by 85-year-old Fred Myers and his neighbor, Ralph Johnson. And you can see that his main chute didn't open, so I guess the load was just too much for him. Police found more than 70 pounds of cocaine wrapped in football-sized packages in a duffel bag the chuteist was carrying. Police found more than 34 duffels.